Mi ricorda un po' il tomba dei tempi... Bravo, bravo. Mattia non perdona! I campioni di domani vestono i colori dello Sciclè blecco. Sono stati due atleti del sodalizio di casa a raggiudicarsi la prima edizione del talent show di Rai 2 dedicato alle promesse del circo bianco. Eleonora Pizzi e Mattia Zanni hanno battuto in finale lo ski team Falconeri aggiudicandosi la possibilità di fare da apripista ai due super gil del campionato del mondo di Cortina. Ecco Zanni in azione. Soddisfazione per l'allenatore Pietro Migliazza che li ha accompagnati e per tutto lo Sciclè blecco che ancora una volta ha dimostrato di essere capaci di sfornare i campioni di domani. Il talent condotto da Massimiliano Sini e Lino Zanni con la presenza tra gli altri di Giorgio Rocca è stato realizzato in concomitanza con i campionati del mondo di Cortina. Ha visto sfidarsi 16 Sciclèb italiani rappresentati da due atleti under 16. Volevamo vincere, ce l'abbiamo fatta, anche se non era per nulla scontato. Ha spiegato Mattia, paragonato per grinta e potenza ad Alberto Tomba. È stata un'esperienza bellissima, diversa da tutte le altre fatte finora. La cosa più difficile? Stare sotto i riflettori delle telecamere, ha confidato Leonora. All'inizio eravamo un po' spaisati e poco a nostro agio, poi ci siamo abituati. I ragazzi hanno portato a casa una grande e bella esperienza, ancor più avendo vinto. Siamo stati bravi e abbiamo fatto la differenza in pista, la soddisfazione dell'allenatore Pietro Migliazza.